Quando dobbiamo affrontare correnti molto forti come possono essere l'adda, il piave, il po e dobbiamo insidiare dei barbi o dei pesci che vivono sul fondo, abbiamo necessità di pastoratori veramente molto pesanti e di conseguenza in questo caso qui i nostri air tech vi potranno essere veramente d'aiuto. Questi due pastoratori qui che hanno la caratteristica di avere un fondo molto piatto con un piombo con dei dentini che faranno grip sul fondo o addirittura come questo modello qui River il suo piombo è attaccato nella parte sotto e dà la massima quantità di piombo alla sua estremità per cui vi consentirà un lancio molto più facile e un posizionamento sul fondo veramente incredibile. Naturalmente questi pastoratori qui vengono prodotti con grammature veramente molto elevate, questo arriverà fino a 100 grammi e addirittura il River fino a 150 grammi, indispensabili per correnti forti come il po e assolutamente necessari per affrontare barbi che quando mangiano portano via la canna. Provatevi e poi mi direte.